Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale, parliamo di patatine ma Sara adesso fa una cosa per me se chiude la porta perché sennò sentite i rumori può venire dall'altra stanza dove ci sono persone che fanno rumore molto rumore e noi dobbiamo stare in silenzio a fare le recensioni comunque volevo dire una cosa che quando lo visse quando lei portate quando ero in monopattino che stavamo andando che è riuscito dal centro del supermercato e ho fatto vedere queste patatine ho guardato nel retro e ho riconosciuto subito questa e questa gommina che ha anche una mia amica che si chiama Nicole e che saluta va bene ciao Nicole e devo dire che sono pucciosissime veramente si dice pucciosissime unicorn dolls giuro che io ero arrabbiatissima perché ho visto su youtube da Twitter Candy queste bamboline nelle caramelline dico andiamo a cercarle le chiediamo a Lady Colante cosa ci da una roba come un braccialetto avrete visto di sicuro il video perché c'è su youtube il video della delusione io volevo le bamboline e non le ho ancora trovate di queste patatine è una cosa molto triste molto triste serve storie eccolo qui apro io no apro io è tutto unto aspetta poi non puoi toccare più niente fai a me intanto controlliamo anche che non ce ne siano di più ho già visto ho già visto ho già visto fai senza guardare ah ma è proprio un set scuola non è solo la gommina io faccio vedere questo una meravigliosa matita sweet arcobaleno caramellosa stella eccetera eccetera e wow forse è una delle più belle e questa è una delle gomme che ha sempre la mia amica ovvero questa qua però anche questa qua è la prima che ho visto che è carina bella sì in effetti è una delle più belle ma è strano che non esistano le bambole forse non le conosciamo noi no no esistono le bamboline alte così solo che non le abbiamo trovate beh certo che i pacchetti di patatine sono molto come dire strani perché a volte ti danno una gomma una matita insomma cosa carina è anche utile e a volte tre adesivi a volte un giocattolo bello così a volte un adesivo vabbè quindi dipende in questo caso è salati preziosi che fa anche giochi preziosi quindi da parte del mangiare a volte magari non lo so un beh abbiamo trovato di tutto e di più un portachiavino un rilievo in questo caso è una cosa carina è anche utile perché questa matita è veramente bella assolutamente bellissima utile molto utile e bellissima quindi la gomma se non usi questo lato ma cancelli così e non la usi tanto magari si conserva ed è carina esatto va bene quindi molto velocemente con le patatine non stiamo tanto avete visto la sorpresa iscrivetevi al canale mettete un like condividetelo commentate eccetera eccetera e come sempre noi vi sentiamo e ci vediamo presto ciao 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 ciao